Carenza di personale e topi nelle stanze. La situazione all'unità operativa di salute mentale di Angri Scafati è sempre più allarmante e preoccupante con una marcata carenza di personale che sta mettendo a dura prova l'organizzazione del lavoro e la gestione delle poche risorse umane disponibili. Il coordinatore area centro nord della CISL Funzione Pubblica di Salerno Andrea Pastore e il coordinatore area psichiatrica Paolo Fasolino hanno denunciato la decisione del direttore di autorizzare periodi di congetto discrezionale ad alcuni dipendenti, impoverendo così ulteriormente la già ridotta dotazione organica. Si tratta di una scelta irresponsabile che ha peggiorato ancora di più la situazione già precaria della struttura, affermano i sindacalisti. A complicare ulteriormente la situazione, il dirigente medico responsabile dell'unità operativa che ha cercato di risolvere la mancanza di personale mettendo una disposizione per ridurre i turni notturni degli operatori, mettendo a rischio l'incolumità dei pazienti. Questo ha portato alla ratifica delle dimissioni del responsabile infermieristico, evidenziando una totale mancanza di capacità di gestione da parte della dirigenza. Oltre a questi gravi problemi organizzativi si aggiunge la presenza documentata di una colonia di topi che da giorni invadono la sede di piazza annunziata, senza che venga attivato alcun protocollo di delattizzazione. La situazione dell'UOSM, anche i scafati, sta sfuggendo di mano, poiché vi è una forte carenza di organico, atteso che secondo la delibera 190, il piano triennale del fabbisogno, le dotazioni organiche dovrebbero essere di gran lunga superiori. Quindi noi diciamo che ci dovremmo attestare intorno alle 35 unità di personale del compatto. In realtà sono presenti circa 25 unità infermieristiche. A questo si aggiunge la cattiva gestione da parte del direttore della struttura. Nella struttura vi sono colonie di topi che vivono praticamente nella struttura, quindi senza fare un bel nulla. E qui c'è il rischio di infezioni. Ci sono topi che costantemente sono presenti nella struttura e il direttore doveva subito attivare l'iter burocratico per la delattizzazione. E quindi vi è un forte rischio di infezioni e noi non capiamo come mai questa struttura viene abbandonata a se stessa. La richiesta del sindacato è il confronto. Il confronto per quanto riguarda l'orario di lavoro, così come viene sancito dal contratto collettivo nazionale. Noi abbiamo dato di tempo 5 giorni al direttore affinché ci convocchi per il confronto e per trovare una soluzione insieme. In mancanza di risposte noi abbiamo ravvisato che attiveremo tutte le prerogative sindacali e attiveremo lo stato di agitazione del personale. Oltre che denunciare la condotta antisindacale al direttore.